Assessore, è cominciata in maniera sistematica la pulizia delle aree di pertinenza delle scuole? Sì, stiamo facendo il possibile sia come settore lavori pubblici, perché il Verde da un mese a questa parte è passato come servizio ai lavori pubblici, che come Comune in generale. So quali sono le difficoltà, in molti mi fanno segnalazioni perché comunque non si riesce a coprire tutto il territorio e non si riesce in tempistiche adeguate a curare il Verde di tutta la nostra città. Ma vi posso assicurare che stiamo cercando di fare il massimo per questa fine anno e ci stiamo organizzando al meglio e con la GELAS e con i lavori del reddito minimo di inserimento e vedremo nel 2016 di ampliare ancora di più questa forza lavoro. Abbiamo iniziato con le scuole, abbiamo cercato di fare il massimo con le scuole perché lì c'è il futuro della nostra città, ci sono bambini, adolescenti ed è giusto che quelle aree devono essere, almeno per quanto riguarda il Verde, non solo le più pulite e le più curate. Dopodiché ci stiamo spostando in tutta la città a partire sia dal centro storico che nei quartieri periferici. La pulizia potrebbe diventare un'operazione ordinaria? Finalmente GERA potrà avere delle aree verdi pulite e manutenzionate? Deve diventare un'operazione ordinaria. Dobbiamo cercare di tralasciare lo straordinario. Per tralasciare lo straordinario bisogna che tutte le forze all'interno del comune, ma soprattutto tutte quelle forze che si occupano del Verde, agiscono in modo consapevole e in modo programmatico. Questo cercheremo di farlo fin dal 2016. Ecco perché per dare maggiore forza e spinta alla pulizia del Verde della nostra città abbiamo inserito un intervento all'interno del piano triennale che si andrà ad accostare agli interventi che farà la GERAS. Grazie. Grazie. Grazie.